salve io mi chiamo enrico giannello sono un attore traduttore scrittore e regista e oggi vi voglio raccontare una storia di amicizia da un po di tempo da circa 15 anni io vivo a barcellona in catalunia e dovete sapere che negli ultimi tempi diciamo negli ultimi due decenni circa in catalunia si è molto investito sulla nuova drammaturgia perché perché si è ritenuto importante il racconto che veniva fatto della mutazione diciamo di una società di come di quella che era l'evoluzione anche storica proprio di un paese di una società attraverso il palcoscerico di come i giovani drammaturghi raccontavano questa evoluzione cosa è successo che nel corso del tempo è nata un'amicizia che è quella di cui voglio parlare con l'italia con il nostro paese questa amicizia è nata grazie all'interessamento di una serie di persone attori registi traduttori operatori culturali più in generale che hanno nel corso del tempo messo in scena i testi catalani dei dei nuovi drammaturghi importanti della catalunia come per esempio quelli storici come sinisterra josé sanci sinisterra o benetti giornet o tutti i loro diciamo figli quindi a partire da scusate da sergi bel bel un po tutti i drammaturghi che sono passati dalla dalla sala beckett che è stato il grande baluardo della della nuova drammaturgia catalana negli ultimi tempi cosa è successo diciamo negli ultimi 15 anni circa che molte compagnie hanno lavorato sui testi catalani ma in particolar modo una compagnia che si chiama teatro uniti che è la compagnia che ha sede a napoli capitanata diciamo così da toni servillo si è specializzata tra i insomma nel ventaglio delle cose che fa si è specializzata anche nei testi dei nuovi testi della drammaturgia catalana attraverso una serie di spettacoli che hanno avuto un grande successo grande risonanza in italia e anche una serie di adattamenti dei testi catalani a napoli bene cito alcuni senza stare qui a fare sfilze di nomi però chiove o yukatur giocatori di pao miro che hanno sono stati portati in scena con grande successo in italia hanno anche vinto i premi più importanti della critica italiana cosa succede che in questo momento questa amicizia si sta in qualche misura sistematizzando il lavoro che stiamo cercando di fare proprio in questi mesi con la delegazione catalana del governo catalano in italia e l'istituto per la cultura catalana ramon julia stiamo cercando di mettere a sistema questa amicizia nata sulle tavole del palcoscenico e che finora ha messo in gioco due capitali importanti che erano da un lato il la sapienza recitativa italiana che ha sempre sfornato dei bravi grandi attori e tutta la sapienza invece drammaturgica che ha elaborato e messo sul piatto la catalogna con tutti i suoi nuovi drammaturghi l'idea è quella da qui a qualche tempo di creare una appunto sistematizzazione di questa corrente che sta tra le due sponde di rimpettaie del mediterraneo attraverso una serie di piccoli teatri che possano mettersi in rete e mettere in scena una nuova drammaturgia chiamiamolo così così che potrebbe chiamarsi una nuova drammaturgia italo catalana quindi continuare a fare il lavoro italiano di dare a conoscere questi drammaturghi che hanno operato egregiamente negli ultimi anni e allo stesso tempo cominciare anche a fare il lavoro contrario far conoscere meglio in catalunia successivamente in tutta la spagna la nuova drammaturgia italiana che ancora qui non si conosce abbastanza abbiamo individuato una serie di piccoli teatri che potrebbero fare questo lavoro nella nuova edizione del nella prossima edizione del nuovo teatro festival italia 2020 andranno in scena altri tre nuovi testi catalani mai messi in scena in italia di giordi galseran pao mirò e marta buciaca e come dire stiamo cercando di costruire un edificio drammaturgico dove a ogni piano corrisponde un autore e una storia d'amore ed amicizia con una compagnia italiana che lo mette in scena è un è un grattacielo ormai perché gli autori sono tanti e il repertorio comincia a diventare importante appunto non sto qui a farvi grandi sfilze di nomi però mi sembra molto importante questo questo lavoro che nasce su una storia di amicizia perché speriamo abbiamo visto abbiamo testimoniato che i frutti che vengono fuori da questa storia d'amicizia sono molto belli speriamo che siano anche duraturi e che si possa nel corso del tempo da qui a qualche anno immaginare una rete molto prolifica di contatti fra l'italia e la catalugna dal punto di vista strettamente tetrale